Ciao a tutti gli appassionati di anime manga, sono Alex, come sempre un video su Yumi qui su YouTube, su Instagram, su Twitch e anche il mio canale, le gambe star sempre raggiuntanti. Tutti i link come sempre li trovate qui sotto in descrizione. Oggi ando a fare la recensione di tre opere di Tatsuki Fujimoto, autore di Fire Punch, Chinsomen, questi sono editati da Star Comics, tre volumi, c'è l'edizione normale ma anche l'edizione cartonata, l'edizione cartonata 10,90€. Uno è Look Back, che questo si poteva trovare all'ultimo dei tre insieme al cofanetto per raccogliere tutti i tre a 15,90€, quindi solo con Look Back. E poi Short Stories, 17,21€ e 22,26€, come raccennato tutti a 10,90€. Questa è una raccolta di storie brevi, si vede tutto il tratto e i connotati delle storie che hanno proprio dall'artista e dall'autore. Spesso con storie molto folli, pazze, alieni, galline che parlano, cose incredibili, fantascientifiche, un po' di splatter ogni tanto. Classico, classico, che vediamo, un Fujimoto, classico Fujimoto, quindi se vi piace l'artista, se vi piace l'autore, sono da prendere. Prendete l'edizione deluxe, quella cartonata che secondo me il cartonato rende appieno, poi 10,90€ non è una spesa, soprattutto molto più resistente, dura di più nel tempo e poi prendendolo, se volete il cofanetto, lo dovete per forza prendere con l'edizione cartonata, quindi non avrebbe senso prendere uno dei tre cartonato e gli altri due, no. Su mio parere, poi potete prenderli anche quelli normali a 6,90€, se mi ricordo, 8€, non mi ricordo. Quelli normali non sono cartonati, comunque, se volete risparmiare, però, secondo me, il cartonato rende molto più, perché comunque poi non è una spesona. E queste sono tutte raccolte di storie, queste due, che ha fatto l'artista, quindi... Se si vuole approcciarsi all'artista a conoscerlo, piuttosto che magari prendi una serie lunga o che non sai la durata o il valore, prendi uno di questi due, così ti regoli e capisci lo stile dell'artista e le sue storie. A differenza di Look Back, che è molto più tragica e drammatica, non è così pazza, non è così folle, è comunque una storia che può essere tranquillamente reale. E quindi è un manga a volume unico, quindi non è una raccolta di storie. Abbiamo Fugino, questa bambina di quarto elementare, a cui piace disegnare e per il giorno di una scuola fa delle strisce di fumetti satiriche, principalmente. E un giorno, a un certo punto, Kyo Mori, di un'altra classe, una bambina di un'altra classe, vuole andare sul giornale anche lei a fare una striscia. E Fugino si accorge, e tutti gli altri da classe, che ha un tratto davvero elevato di disegno, molto superiore, e si sente gelosa di questa ragazza, ma tanto. E quindi decide quasi a momenti di abbandonare tutte le amicizie, tutto ciò che faceva extra scolastico, e per due anni alla fine si dedica a disegnare e disegnare e disegnare. Ma il livello non raggiunge minimamente quello di Kyoko. Lei, che Fugino, ha sempre pensato di essere la migliore, la più brava di tutti, si sente quasi in competizione, fino a un certo punto che l'ultimo anno di elementari, il sesto, decide sia, beh, chi se ne frega, lasciamo perdere. Ficca l'ultimo giorno, proprio l'ultimo giorno di elementari, la professoressa gli dice, guarda, porta il diploma a Kyoko, che è sempre a casa. Kyomoto, scusate, non Kyoko, Kyomoto, che è sempre a casa. E quindi fa la conoscenza di questa ragazza, che è Onikikomori, che vive tutta la sua vita nella sua stanza a disegnare. E scopre che Kyomoto, in realtà, è una sua fan. Ha iniziato a disegnare vedendo le sue strisce sul fumetto, e quindi è la sua prima fan di Fugino, e si sente un po' galvanizzata da questa cosa. E decidono, in qualche modo, di formare un duo, anche alle medie, di andare alle medie insieme, alle superiori insieme, e iniziare piano piano ad entrare nel mondo dei fumetti, facendo storie davvero stupende, che comunque incominciano a vendere, incominciano ad andare su Weekly Shonen Jump, a 17 anni hanno già successo anche di vedere le proprie storie serializzate sui Takobon o anime. Però succede qualcosa davvero tragico e drammatico, verso la fine del manga, che è davvero forte, ti colpisce davvero. Vediamo che Fugino resta molto colpita da questo fatto, ma davvero tanto, e incomincia a ripensare al passato, se determinate scelte, se faceva scelte diverse, il futuro, l'oggi, sarebbe stato diverso. E quindi è un manga, comunque, che ti fa pensare, sembra un po' Inyo Asano, il modo di raccontare la storia, e il livello di storia come è drammatica, non sembra un manga di Fujimoto. Fujimoto spesso molto più spietato, molto più splatter, con storie molto più fantascientifiche, ecco. Qui, ricorda, potrebbe tranquillamente essere una storia quasi di Inyo Asano, però molto bella, voglio dire, molto carina, volume unico, devo dire che fa il suo, ecco, per essere solo volume, faccio vedere male il tratto, devo dire che mi è piaciuto molto come volume unico, anche le altre storie, ovviamente, ce ne sono alcune belle, altre un po' meno, non ho raccolto le storie, però ci sono alcune storie nella raccolta molto di livello, secondo me, e sono comunque storie brevi, ecco, 5, 6, 10 pagine massimo a storia, e quindi secondo me ci sta, ci sta questa raccolta, soprattutto per l'edizione che è cartonata, deluxe, col cofanetto, ci sta benissimo, e soprattutto se vi piace l'artista o volete conoscerlo, io ve lo consiglio. Io vi ringrazio, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate like, noi ci vediamo ai prossimi video.